ciao ragazzi allora con questo video cerco di spiegarvi un po le varie differenze che possiamo trovare nelle varie tipologie di rom set non esiste un rom set unico ce ne sono di vario genere e sono stati tutti quanti chiamati proprio con un nome ben preciso perché appunto hanno caratteristiche differenti e vi chiedo però di andarvi a vedere i miei video vecchi quello sui cloni e quello sul full rom 7 perché comunque se non conoscete l'argomento e siete nuovi nell'emulazione acquisite delle informazioni di base che possono esservi molto utile per capire al meglio questo video che sto che state per guardare niente vi lascio il video dai ci vediamo ci sentiamo dopo la fine dunque io qui ragazzi mi sono creato una cartella dove all'interno sono andato a simulare dei possibili rom set che possiamo reperire sul web allora siccome che mi piace rivolgermi ad un pubblico che non sa molto di emulazione quindi magari cercherò anche qui di utilizzare parole semplici e magari portandovi un'analogia in modo che diventi la prima cosa un po più più piacevole anche da seguire dunque cominciamo allora ieri sera ragazzi ho mangiato la pizza ogni tanto la mangio la pizza mi piace ok stasera ho deciso di mangiare un'altra pizza però cosa ho fatto ovviamente sono andato a capire sono andato a cercare di capire le pizzerie della zona che che pizza hanno da offrire no perché adesso non è che io posso andare una pizzeria a caso no perché magari una pizzeria le fa più buone un'altra meno insomma comunque hanno pizzerie differenti non lo so insomma bisogna un po girare capire no e allora ho deciso di farmi un giretto di passare dentro in pizzeria e andare a leggere il listino e capire se c'era qualcosa che mi interessasse o meno allora e quindi facciamo finta che queste tre cartelle siano tre pizzerie differenti ok andiamo a verificare all'interno della prima pizzeria che poi in realtà qui non c'è un ordine ok andiamo nella pizzeria denominata unmerged che significa non unito una parola un po astratta che in realtà non ci dice nulla non unito cosa? cosa vuol dire non unito? ok entriamo dentro e vediamo queste pizze allora nel loro listino hanno solamente due tipologie di pizze hanno una pizza che si chiama parent e una pizza che si chiama clone allora un piccola parentesi parent per il meme è praticamente il gioco originale infatti non lo chiamo parent non mi piace chiamarlo parent il gioco originale il gioco originale lo chiamo gioco originale ok mi viene più semplice così io vi ho messo parent perché comunque utilizzando il meme prima o poi andrete a scontrarvi con questa parola quindi sappiate che quando leggete parent si fa riferimento al gioco originale chiusa parentesi bene allora possiamo tranquillamente associare la rom parent a una pizza margherita ok e andiamo a vedere che ingredienti ci sono all'interno di questa pizza margherita allora entriamo dentro ok troviamo 5 file è un esempio ragazzi l'ho messo io 5 potevo metterne il 25 non importa è solo un esempio ci sono questi 5 ingredienti che si chiamano 1 2 3 4 5 perfetto sicuramente sarà una buona pizza se la ordino penso sia buona andiamo invece a vedere all'interno della pizza clone cosa troviamo ok pizza clone che secondo me possiamo tranquillamente associare in questo caso ad una prosciutta e funghi ok entriamo dentro cosa troviamo troviamo se ci fate caso ve lo dico io esattamente i 5 ingredienti della pizza margherita 1 2 3 4 5 quelli che abbiamo appena visto però con l'aggiunta di qui abbiamo un x y z ok sono solo dei file indicativi che vi ho inserito io e come so io però questo x y z secondo me potrebbe essere tranquillamente il prosciutto e i funghi ok perché quando voi andate a mangiare o vi ordinate comunque una pizza prosciutto e funghi voi avete l'illusione di mangiare una prosciutto e funghi perché in realtà adesso vi dirò una cosa molto forte voi state mangiando una margherita con l'aggiunta di prosciutto e funghi capite la differenza allora adesso torniamo un attimo parlando di rom ok quindi di maim allora nel rom parent quindi nel rom originale troviamo ovviamente i file del gioco originale eccoli qui ok quindi se io farò doppio clic su quel file funzionerà e il gioco partirà senza darmi nessun problema benissimo e mentre all'interno di una rom clone cosa troviamo però attenzione sul è tutto riferito ragazzi al rom set unmerged perché adesso siamo all'interno della pizzeria unmerged tutto il resto non ci interessa ok perché questo è un caso un clone che si trova all'interno di un rom set unmerged cosa conterrà mai andiamo a verificare se notiamo troviamo praticamente aspettate che vi sposto qui gli stessi identici 5 file della rom originale con l'aggiunta di 3 file in più ok e allora altra cosa da dire perché se no faccio fate fatica a capire e fin qua ci siamo va bene ok rom originale ci sono i suoi file nel file nello zip della rom clone trovo gli stessi identici file della rom originale però con l'aggiunta di file in più ok allora vi dico questo qualsiasi clone dipenderà sempre dico sempre dalla rom o dai file della rom originale ok un clone solo con i suoi file non può funzionare perché deve sempre appoggiarsi o alla rom o ad i file della rom originale quindi qui cosa hanno fatto nel file del clone sono andati a inserire anche i file della rom originale questo perché questo perché la caratteristica del rom set unmerged quindi non unito è quella di avere ogni singola rom indipendente dalle altre allora vuol dire che tradotto se io utilizzo un rom set unmerged cosa significa in soldoni cosa significa che se io faccio doppio click sul gioco originale il gioco originale perché comunque all'interno troviamo i file del gioco originale fin quando non ci piove ma se io ad esempio andasse a cancellare il file originale il clone di quel gioco potrà mai partire secondo voi ve lo dico io certo che sì ma perché parte perché dentro la rom del clone troviamo gli stessi identici file della rom originale quindi qui dentro c'è tutto quello che gli serve qui dentro il main trova sia il gioco originale che in più i file del clone che vanno appunto a contraddistinguere dalla rom originale il clone stesso ok perché il clone deve avere qualcosa in più rispetto al gioco originale altrimenti non avrebbe senso perché se io da un clone eliminassi questo xyz cosa mi resterebbe mi resterebbe il file della rom originale praticamente perché troverei i file all'interno dello zip 12345 che sono gli stessi identici di quelli della rom originale quindi ogni gioco ogni rom è indipendente dall'altra indipendente nel senso che il clone parte anche se non c'è se non possediamo il gioco originale ok perché comunque all'interno del clone troviamo il main trova già i file del gioco originale quindi potenzialmente la rom del gioco originale non ci serve per fare partire i cloni ma per fare partire il gioco originale ho bisogno sì del gioco originale ok questa è la caratteristica del rom set al merge quindi abbiamo ovviamente tanti file però il peso in dimensioni proprio in giga è il rom set più pesante ok perché capite bene che dentro un file dentro una rom originale ho dei file dentro il suo clone ho gli stessi identici file più i file del clone poi magari ho un altro clone dello stesso gioco che ho ancora gli stessi identici file della rom originale più gli altri file nuovi di quel clone lì e via dicendo quindi quando un gioco magari ha 20 cloni capite che se un gioco ha 5 cloni 3 cloni 10 cloni 20 cloni capite che la cosa diventa molto grossa ok quindi vabbè è un rom set fatto così tutti i file delle rom sono tutti indipendenti ognuno parte per i cavoli suoi senza essere legata per forza a qualcos'altro però la dimensione è più pesante ok questa è la prima situazione allora andiamo nella seconda pizzeria pizzeria split diviso vuol dire split ok entriamo troviamo le stesse identiche pizze mi ritrovo sempre questa margherita e sempre questa prosciutto funghi andiamo a verificare all'interno della margherita che ingredienti troviamo doppio clic gli stessi 5 di prima quindi secondo me la pizza è uguale a quella di prima e fin qua siamo a posto andiamo invece a verificare all'interno della pizza clone quindi la prosciutto funghi cosa troviamo doppio clic troviamo solamente il prosciutto e i funghi ma se io ordinassi una pizza di questo tipo mi porterebbero probabilmente un piatto con del prosciutto e dei funghi sopra farebbe schifo ok cos'è? una pizza non può essere una pizza fatta così però di fatto qui dentro mi trovo solamente il prosciutto e i funghi bene allora tradotto adesso in versione romset in versione rom in versione main cosa significa tutto questo? qual è la caratteristica del romset split del romset diviso? allora il romset diviso ha la caratteristica di avere all'interno attenzione dei file dei cloni solamente i file necessari per il clone quindi tutto quello che è i file della rom originale li troviamo solamente all'interno della rom originale adesso vi riapro di nuovo questi due insieme magari capite meglio facciamo così allora vedete questa è la rom originale con i suoi 5 file questa qui è la rom clone con solamente i file che contraddistinguono quel clone lì ma allora voi direte ma allora in main se io faccio doppio clic su questo clone non può partire perché dentro gli mancano i file originali prima nell'altra pizzeria c'era questa diciamo prosciutto funghi dove giustamente loro hanno inserito gli ingredienti della margherita no ma qui mi trovo solamente prosciutto e funghi quindi come posso mangiare una prosciutto funghi se non ho gli altri ingredienti allora gli altri ingredienti Mames li va a pescare direttamente all'interno della rom originale ok quindi a differenza di un rom set unmerged quindi non unito questo qui invece è separato diviso scusate nel senso che i cloni di fatto per essere avviati necessitano assolutamente della presenza della rom originale altrimenti non possono essere avviati quindi la rom originale il parent partirà in qualsiasi caso perché all'interno ha tutti i suoi fan necessari ma se io cancellassi così la rom originale provasse ad avviare questo clone cosa succede il Mame legge sì questi tre file qui però gli altri dove sono quindi non può avviare il gioco e mi darebbe solamente errore ok quindi in questo caso siamo costretti ad avere comunque in qualsiasi caso la rom originale e allora sì potenzialmente possiamo avviare tutti quanti i suoi cloni ok in termini di peso invece ovviamente si riduce un po' perché all'interno di ogni clono non abbiamo più la ripetizione di tutti i file della rom originale abbiamo solamente i file che contraddistinguono il clone in sé quindi si diminuisce il peso ok questo è il rom set split vediamo invece il rom set merged quindi entriamo in questa pizzeria merged entriamo dentro ma qua apparentemente abbiamo solo una pizza ed è una margherita almeno di nome però andiamo a vedere un attimo questa margherita da cosa è composta allora questa margherita è composta da ingredienti della margherita quindi 1,2,3,4,5 come erano prima però mi trovo ancora in aggiunta x,y,z che mi trovo in più questo prosciutto questi funghi ma allora non è una vera margherita qua mi stanno fregando ok infatti questa non è proprio una margherita è una pizza un po' ibrida diciamo è una pizza che all'occorrenza potrebbe essere margherita ma se serve può diventare anche prosciutto funghi io mangio io ordino questa pizza la mangio come fosse una margherita dopo 5 minuti mi viene voglia di passare alla prosciutto funghi si trasforma in prosciutto funghi magicamente ok perché adesso vi spiego tornando a parlare di rom il rom set merged quindi unito cosa hanno fatto loro hanno cancellato tutti i file dei cloni via tutti e hanno mantenuto solamente i file della rom originale e quindi voi dite perfetto mi sono tolto di mezzo i cloni no ho sbagliato caro mio e qua il problema tutti i file dei cloni di una rom li ritroviamo tutti quanti all'interno della rom originale quindi dentro la rom originale dentro la rom di un rom set merged ci troveremo tutti i file della rom originale che devono esserci comunque altrimenti il gioco non può partire ma con l'aggiunta di tutti quanti i file dei vari cloni di quel gioco lì di conseguenza loro hanno eliminato i file dei cloni cioè i zip le rom dei cloni non le vediamo noi vediamo solamente la rom originale però al suo interno c'è tutto quanto di conseguenza è tradotto cosa succede se io apro maim e possiedo un rom set merged niente succede che tu puoi far partire praticamente qualsiasi gioco che tu vuoi perché comunque maim facendo la scansione di quel gioco lì vede anche che ci sono i file dei suoi cloni quindi ti abilita la possibilità di utilizzare anche i cloni capite queste qui sono le tre differenze tra il rom set unito il rom set diviso e il rom set non unito ok e cosa consigliarvi non è che posso consigliarvi io di base ragazzi lo sapete sono contrario ai rom set già fatti anche perché adesso io vi ho detto queste linee queste regole diciamo che bisognerebbe seguire ma in realtà difficilmente sarà così anche perché questi rom set che scarichiamo dal web sono fatti da chi non è che vengono generati in automatico da main sono delle persone fisiche che lo fanno ok che assemblano comunque che lo sistemano che lo rendono tale però tante volte troviamo cose cioè dentro si trova di tutto e di più quindi queste cose qui dovrebbero queste qui dovrebbero essere le regole da seguire però di fatto ragazzi difficilmente è così ok a meno che non trovate proprio una fonte buona ottima e allora bene quindi adesso voi vi chiedete quale scarico io intanto voi non dovete scaricare nulla ok perché la cosa bella è crearlo da soli il nostro rom set personalizzato partendo da zero scaricandosi i giochi che ci interessano poi vedete che pian piano col tempo ne scaricheremo sempre di più e via dicendo quindi ci creiamo noi il nostro rom set pulito senza cloni senza schifezze e siamo contentissimi poi se io devo per forza di cosa darvi un consiglio su questi tre rom set secondo me il male minore di questi tre è il rom set split ok perché comunque diciamo che il rom set merged purtroppo mi va ad inquinare tutto quello che è il file originale quindi avrei un file originale con dentro 100.000 file e fa schifo via quindi lo scarto già a priori l'unmerged avrei un peso esagerato che sinceramente non ha senso perché comunque con un rom set split ho gli stessi identici giochi dell'unmerged quindi l'unmerged non ha senso di esistere ok perché comunque di base cioè chi è che butta via un gioco originale per tenersi solo i cloni no di solito si tiene il gioco originale e al limite si utilizza se necessario ok quindi secondo me rom set split è il male minore ok abbiamo le rom originali pulite con all'interno tutti i file puliti se non sono inquinati insomma e in più abbiamo appunto questi file zippati di questi cloni con dentro solamente i file del clone ok quindi sono anche dei cloni puliti anche loro a sua volta e quindi se non li vogliamo li possiamo cancellare insomma non c'è nessun problema ok video finito io spero di essere riuscito a farvi capire un po' queste varie differenze e se poi ancora non avete ben capito me lo dite e ragazzi ne prenderò atto ok allora se avete dubbi problemi di incertezza scrivetemi nei commenti io per quanto posso vi darò una risposta se vi piacciono i video che faccio iscrivetevi al canale attivate la campanella così quando pubblico qualcosa di nuovo vi arriverà una notifica ragazzi con questo è tutto e ci vediamo in un prossimo video un prossimo video